Ciao ragazzi, non siamo in BocoGamers, io sono Zucchi e io sono Ryozan e siamo in lutto Luca è morta Non è morta tecnicamente, è viva ma sta compiendo un lavoro per cui sarà via per qualche anno Ma si è soversa ma non ne rivedremo mai più È un momento molto triste Ma noi non siamo qui per deprimerci Zucchi, per cui indossiamo la nostra fascia nera al braccio come lutto e andiamo avanti a farla pagare a quei veritas Andiamo! Una 5 star! Puntino! Esatto, il nostro caro amico Puntino Da quanto tempo? Rain No, quando è così piccolo per noi sarà sempre solo Puntino Puntino Rain No, Puntino e basta Voglio una 5 star, adesso Ma guarda, con la nostra fortuna sarà una Marie Nooo È così bello, è la prima volta che ne vedo uno così grande Eh, guarda, considerato la fortuna che abbiamo tutti con i free pool, è normale che lo vedrai più raramente Già, anzi, potresti stare anche mesi e mesi senza vederne uno Esatto Poi ti appare Marie Esatto Quando ne hai tipo 17 nell'inventario Ma andiamo avanti Cos? Crystal Lady è tornata Crystal Lady! Eh? Cioè, è già così piccolo che vede le donnine nude Hai visto? Andiamo bene Ti credo che è nato così, tra virgolette, pervertito Eh, già Aug! Rain! Oh! No, ma aspetta, è simile al sogno, però continua Cos'è questo? Il mio braccio! Che, ti ha rubato il braccio? No, sembra che stia andando a fuoco dalla luce Buono È ottimo quando il braccio ti va a fuoco Hai visto? Eh Quindi hai reagito al potere del cristallo Tu sei davvero Tra l'altro questa è la seconda volta che vediamo Regan, ragazzi Esatto Ma tu sei davvero? Davvero? Papà, papà, aiutami, ho paura Fai un po' duro Beh, cioè Bene vado Bene! Ma, 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 ma Seriamente? Ma siamo seri? Cioè, tu hai tuo figlio che ha un coso nel braccio E te ne vai così Bene Il mio compito qui è finito Ma non hai fatto niente, papà Cammina via Molto bene Come i meme di Di Sailor Moon dove c'era coso, milord Esattamente Dove stai andando? Papà, papà, aspetta Ma povero Papà, non lasciarmi qui da solo Eh, ora comincio a capire il risentimento di Rain nei confronti del padre In effetti Non è che sia stato un gran padre Vabbè Siamo nel futuro? Ah, sì Di nuovo quel sogno Se ti ricordi, infatti, quando siamo approdati nel continente di Lid Aveva avuto sempre del sogno, però si era interrotto prima che gli prendesse fuoco, tra virgolette, il braccio Sì, la prima volta che abbiamo visto Puntino in azione Esatto Ma ricordo benissimo Rain, vieni, la città è... Eh? Ma perché si interrompono tutti? Esatto, uffu Che problemi avete? Non sapete finire una frase? No, secondo me no Ma che... Allagata Siamo... Allagata o sbaglio? Non sbagli, Rio Scusami, Luca, che cavolo stai facendo in quel lago? Che accidenti è questo? Atlantide Esatto, siamo finiti all'Atlantide, ragazzi Il tuo pensiero è lo stesso nostro Quando ci siamo svegliati questa mattina È così che abbiamo trovato la situazione Almeno voi siete vivi Scommetto che la gente che ci stava dormendo è morta sicuramente Ma poi ragazzi, io vorrei dire Stanno parlando Rain e Laswell tra loro Guardate come sono messi Cioè... Uno parla la mattonella a fianco all'altro Bellissima sta cosa Stupendo Non sembra un fenomeno naturale Magari qualche tubo dell'acqua si è rotto E sembra un tubo dell'acqua che è sommerge l'intera città Mi sembra un po' troppo eccessivo, Lid All'anima, eh Cioè... Questa è l'Aquapolis La città acqua, insomma L'Aquapolis non ha problemi con le tubature Sarebbe divertente Che cosa vuol dire? Però sarebbe divertente Ma che c'entra? Si può rompere un tubo Ma non farebbe questo danno così Il che vuol dire? Che qualcuno vi ha attaccato Molto probabilmente Che questo è un attacco Ecco, bravo Non c'è nessun'altra spiegazione credibile Meno male che c'è Nicole parte 3 Dopo che l'ha suggerito Zucchia sto giro Ma vabbè Prego Nicole Chi ha parlato? Nessuno, nessuno Mostri! Ci sono mostri al nuovo mercato! Non avevo dubbi! Vabbè Che puoi nel senso di attaccare la città? Bu Nel nuovo mercato? Come possono essere lì quando i cancelli non sono neanche stati abbattuti? Perforati insomma Quello Fetti come hanno fatto a andare? Cioè boh E può essere Chi se ne frega Andiamo a sconfiggerli! E appunto Perché farsi domande stupide? Ci sono i mostri e andiamo a sconfiggerli Si va a picchiare con ignoranza L'intelligenza Lasciamola a chi sta dietro le quinte Esatto Ed ecco Figuriamoci Cioè è riuscita ad entrare pure questa? Già Avevi dubbi? Eh in realtà sì Cioè Perché non Come hanno fatto a entrare senza infrage Che siano passati dall'acqua Che l'hanno inondata Eh sicuramente è andata così Hai capito sti verità Sof de pesci Quindi si tratta di te Sapevo che questa inondazione Ah no Dice Dunque devo intendere che questa inondazione sia Operatua Cioè operatua Sì sì esatto Operatua ha causato la te È quello Ed ecco la nostra simpaticissima nemica Che risponderà Ha spento L'antistress Non vi sembra che il nome Acquapolis Le stia meglio in questo modo? Ma dai Non ha tutti i torti però Ma dai Non ha tutti i torti Ma no ma i nemici si mettono a fare le freddure No Devo ancora riprendermi da Undertale per quello Aspetta Aspetta C'è Nicole che sta riferendo a lei come un uomo Chi? Forse Beh effettivamente non si saranno accorti che è una donna Sai è difficile Hai mai visto un uomo che porta una gonna come quella? È un mantello non è una gonna Sì Hai pantaloni Smettila Vabbè L'anello che sta indossando È il sacro vessillo di Palladia che è stato utilizzato per ferire le vaiata Quanto hai l'occhio acuto Nicole? Noi avevamo capito la prima che abbiamo visto quella luce viola Esatto Ma vabbè Che? Anco Cioè Glielo sta chiedendo adesso e non nel video precedente Che è sta storia del sacro vessillo? Ma che roba dai Il sacro vessillo di Palladia È un artefatto leggendario che si dice che possa moltiplicare il potere magico di parecchie volte Interessante Pericoloso soprattutto Già In termini di gioco quanto ci dà di bonus alla magia? 70%? Eh sicuramente 5000% lo voglio adesso Smettila Saprei a che equipaggiarlo No E quindi è così che hai inondato l'intera città? Che idiota Oh Grande lead Beh se lo merita Se lo merita Se lo veritas Allora dobbiamo fare qualcosa riguardo a quell'anello Uh Fina sta togliendo il coraggio Eh cosa vuoi fare? Un'altra barriera come l'altra volta che è durata ben 15 secondi? Non lo so Prima non dovresti recuperare i tuoi poteri cocca invece di fare la splendida così Andiamo avanti Influenza di rene là sul ti sta facendo male Andiamo avanti Ok Eh cosa? Ma cosa l'ha caricata? Andata l'ora l'ha spannata Sicuramente voleva provare ad andare a prenderglielo ma Si è buttata di testa come farebbe Che cos'era? Poverina dai Magari lei vuole davvero sentirsi utile Solo che C'è da capirla Perché allora Luca è finita nel lago Quindi lei si sente già triste per quello In più È sempre stata tra virgolette un peso per lei Nell'asso e le compagnia Adesso che Cioè si sente un pochettino triste E voleva dare una mano E ha reagito di pulso Si ho capito ma deve prendere esempio da Nicole Che è intelligente Non da rene che carica a testa bassa È stata più con rene Ti ricordo Appunto è quello il problema Fina Stupida bambina Non c'è nemmeno pensato Il potere del sacro vessillo mi protegge E vabbè però E vabbè però Altro il caffè te lo fa questo sacro vessillo Sicuramente sì Se io lo chiedi sicuramente ti dice sì All'anima dell'artefatto Il sacro vessillo di Paladia E questo è il suo potere Te l'ha appena detto Fina cara Adesso non per Riggiare il coltello nella piaga però Fina Stai bene Non essere così impudente Altrimenti rischi di ucciderti Penso che la caricherà di nuovo Dici? Sì Sto bene Infatti penso di poter fare qualcosa al riguardo Mi sono ricordata di qualcosa Che cosa ti sei ricordata? Questo pezzo me lo ricordo abbastanza bene Sì Zucchi Anche io però Anzi se volete vi dico cosa succede Smettila Smettila Vabbè Vai Io so cose riguarda quel sacro vessillo Uh la memoria sta tornando Lo sapevo Cosa? Seriamente Non hai ancora ascoltato la prima volta? Sono protetta dal potere del sacro vessillo Sì ma stavolta non l'hai sbattuta indietro Già Non vorrei dire Sta resistendo Cos? Cos? Tu! Cosa stai facendo? Vedi che c'è una specie di flash flash lì? Sì ma penso che sia il vessillo di paladia quello No? Non lo so Il sacro vessillo di paladia Lascialo! Così? Cattivissima Fina Già No non lo farò Non toccarmi con quelle sporche manacce Un litigio tra donne bellissimo Cioè adesso fra poco iniziano a tirarsi i capelli eccetera Però lei c'ha l'elmetto è favorita Esatto Fina devi inventarti qualcos'altro Così perderai No Fina Ecco Io l'ho detto io Lei c'ha l'elmetto Cos? L'aura che aveva No di nuovo la Fina Cosa? Che Cosa? Levati Cos è inaspettata Non avrei mai pensato di tornare in me stessa in questa maniera Ehm Hai recuperato la memoria? Eh sì Ha spostato malamente anche Rain Hai visto? E soprattutto Sì un po' strana Fina Un po' Olderian è cambiato Dall'ultima mia visita Quanti centinaia di anni sono passati da allora? Centinaia di anni? Ovvero secoli Sì vabbè Non era quello Era Non mi sembri così vecchia Fina Ehm Tu Non puoi essere Non puoi essere? Ehm Passato tanto tempo Servitore di Aldor Di nuovo? Le torte Cioè quindi Praticamente in verità sono della pasticceria di Aldor A quanto pare E quindi fine della pasticceria di Es Ok Va bene saperle ste cose Che fortuna per me averti qui Attaccami Giocare con te sarà un ottimo riscaldamento Ehm È molto confidente la ragazza O meglio la donna Eh La vecchia No Ma se c'è diversi secoli La donna Eh La nonna E poi se si conoscono vuol dire che è vecchio anche il veritas O meglio è vecchia la veritas Cribbio Siamo finiti in una avventura con vecchi baccucchi ragazzi Che bella che Ma ha una frusta o sbaglio? Non sbagli Visto che era un mantello Guarda Ma dai è chiaramente una donna Ma guarda i gambali che indossa Appunto Non prendermi in giro ragazza Uh Si è offesa Ragazza Oh io vabbè Ma ci rinuncio ragazzi Cosa ha fatto? La doccia Se l'è presa tantissimo E lei non sta subendo Lei è lì Dove cavolo miri Hai già finito? Beh Credo che sia il mio turno ora In che senso il tuo turno? Ragazzi Non so se l'avete notato Ma lei è uno dei miei personaggi preferiti Che cosa gli ha fatto? Che cosa? La ridotta in ginocchio Non avrei mai immaginato che lei avrebbe riguadagnato i poteri di S Devo Ritirarmi e raggiungere gli altri insomma Uh con la coda tra le gambe Che batosta Con un solo attacco Eh già Ciao Addio Beh io mi sa che me ne devo andare Lol Sembra che non mi sono ancora ripristinata Di solito avrei eliminato uno come te in un singolo colpo Eh La sporona La adoro comunque Mamma mia Quanto ego tesoro Eh oh L'ha messa in ginocchio Cosa che noi non ci siamo riusciti Non è vero Se la deve concedere un pochettino di Non è vero Noi abbiamo legnato il veritas dei cieli ti ricordo Fina Tu sei Fina Non è vero? Uh dove è finito il tuo Eh voglio conquistare le donne Vabbè con Fina non lo fa Beh ma adesso sembra molto in soggezione Fai un po' tutti ritrovi A parte che hai i vestiti Dimmi lo ve li ha presi La magia Potere della magia La solita vecchia scusa Sì sì Oh Rain Fai sentire una ragazza come Cibo per pesci Con quella faccia Ma cosa? Della serie che ha la bocca La macella che sta toccando terra Insomma Eh Con motivo direi Sì anche perché sembra un abito molto audace Quello di Fina Eh già Fin troppo Dove guardi Rain? Scusa ero distratto ad ammellare i tuoi bellissimi enormi occhi Occhi Gli occhi Certo gli occhi Rain La vecchia scusa E infatti Oh cielo Allora va bene Fissami Capisco la tentazione Deve essere irresistibile per te giovane ragazzo Povero ragazzo Povero ragazzo Però Anche giovane ci stava Ma sì Che sta succedendo? Fila si sta comportando in maniera Cresciuta Non pensate? È quello che Non vedi che è vestita diversamente anche Lid? Cioè ti colpisce solo il comportamento? Eh questa è la teoria dei Sailor Moon Ovvero che quando cambiano un vestito Non se ne rendono conto Ma guardano più ad altre cose Più che del vestito in sé Avete problemi ragazzi Una cosa del genere è già successa un'altra volta Però sì Questa volta il suo comportamento è ancora più Inesplicabile Uuuuh Che paroloni Come al solito Lassuel Già Lassuel Se vuoi dire strano Di solo strano E secondo Come ti permetti di definirmi strana? Al contrario Sono finalmente la mia vera La mia vera me Ma lol Chiuso Finalmente qualcuno dice a Lassuel Quello che diciamo dal primo episodio Chiuso Parla come un angibbio E per quello che l'adoro Ah perché ha detto Alla No Perché è troppo Cioè Come parla Mi fa troppo ridere Fa morire Dice le cose in faccia Ora Credo che abbiamo qualche faccenda da sbrigare Oh Non state pianificando di catturare Veritas Così Finché tiene il sacro Anello di Palladia Può sfogare La stessa tipologia di distruzione In qualsiasi città Del mondo Come ha fatto Adol Daryon Adesso è un anello Prima era un vessilo Adesso è un anello Beh Presumo che se lei è tornata a se stessa Conosca molto meglio Che cosa in realtà sia Il sacro vessilo di Palladia In questo caso è un anello Interessante Quindi conta come accessorio Se lo vuoi equipaggiare Siii Certo ma Come dovremmo catturarlo Non sappiamo nemmeno dove è fuggito Lì da detto una cosa intelligente Lì da detto una cosa intelligente Ragazzi Segnatevi questo giorno nel calendario Lol Oh è tutto qui Io posso sempre sentire la presenza del sacro visillo Come potrei dimenticare quel potere Mi ha fatto del male Tanto tempo fa Si vabbè ma sei un cheat vivente E tu tesoro inizi a calmarti un attimo Altrimenti Te l'ho detto che se lo può permettere Ok 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 Tre puntini Nord giusto? Sì quel pidocchio acquatico È da qualche parte a nord di qui Pidocchio acquatico? È diventata la mia nuova eroina Da qualche parte a nord di qui L'unica cosa che c'è a nord di qui è il mare Bene ma non benissimo Cos'è hai sbagliato Fina? Oh è una volta che battiamo verita Se prendiamo il sacro vesillo Adesso però le dà del lei però Sì infatti Cioè fino a due dialoghi fa Gli hanno detto him He Vabbè comunque dice Ci dirigeremo verso il tempio dell'acqua Sì ma decidetevi È stato un lei o un lui? O è un'ermafrodita Il tempio dell'acqua Cribbio Certo caro ecco Il tempio dell'acqua Se prendo in prestito Un po' del potere Dal cristallo dell'acqua Posso riportare Olderion Alla normalità In tempo zero L'ho detto che è un cheat Vabbè Lei è un cheat vivente Vabbè Non per niente C'è Fina Sulla cosa di Exvius Eh 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 Prendere in prestito Il potere del cristallo Perché Come Erif è troppo impegnato a fissare qualcos'altro Rain Esatto Pensi seriamente che posso spiegartelo? Questo è ciò che sono i cristalli sai Sono potere Ah E allora perché li rompono quelli? Non ne abbiamo idea Boh Sono potere Ma Ma che vuol dire? Credo che i cricetti di Rain Siano nati in panico Perché non sanno Come gestire la concentrazione Perché Alcuni di loro vogliono guardare Fina Gli altri vogliono tentare di capire Di più sulla situazione Il problema è che quelli sono in minoranza Esatto Senti Rain So che ti ho terrorizzato E so che ci sono tante cose che vuol Che vuol Che vuol Che vuol che ti spieghi Che vuol che ti spieghi Che vuol che ti spieghi No è che Mi stavo confondendo Scusate Tranquilla Che vuol che ti spieghi Ma Mi dispiace Non posso adesso Per cui dovrai Per cui dovrai Ingoiare il rospo Caro Sei un grande uomo Non è vero? Guarda Alla tua Grande armatura Puoi sopportarla Bellissimo Rain Che subisce i flirt Non è abituato Secondo me lo manda in palla Tra 3, 2, 1 Più che altro Più che un flirt Lo sta bullizzando Nè ma in modo da flirt Che Lo sapevo Sì ma Ma Va bene Rain Abbiamo capito Con le Asuel Gelosia Gelosia Fina era E Un guerriero di S Sigillato dentro un cristallo Ma almeno lui utilizza il cervello No Quella di Lasuel È una fattica alternativa Sta cercando di non pensare Alla gelosia Concentrandoci su altro È furbo il ragazzo Quanto potrà Raccontarci di tutto questo Casino Lo traduco così Perché mi piace così Non importa Sappiamo dove dobbiamo andare No? Allora andiamo Ha ragione Per una volta Per una volta Questo è lo spirito Più veloce è Meglio è Dopo che Rain È stato bullizzato Malamente da Fina Noi Andiamo a riflettere Su che cosa Rain Abbia sbagliato In tutta la sua vita Boh Tutto? Tutto Perché Si vantava di essere Un grande Estimatore di donne Gliene capita una E Balbetta Esatto E niente Prima che Rain Riesca a riavvolgere la lingua A chiudere la bocca Zucchi vi invita Seguire tutti noi Sì i profili social Che troverete nel link In descrizione Detto questo ci vediamo alla prossima Alla prossima Ehi tu Stavi per chiudere il video Senza lasciare nemmeno un pollice in su E senza condividerlo Non vuoi che la famiglia di cioccomini Cresca sempre di più? Allora lasciaci un bel mi piace E condividi ovunque i bocco video Non sei ancora iscritto al canale? Non c'è problema In alto a destra Troverai il mio musetto In versione ridotta Cliccaci sopra E poi attiva la campanella Non preoccuparti Non attiverà strane sonerie Ma ti avviserà Non appena sarà disponibile Un nuovo video Qui a sinistra Trovi invece due video Scelti apposta per te Con le mie zampette Grazie per aver seguito Fino alla fine Ci vediamo alla prossima Qui Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Grazie a tutti.